METEO.IT Con il rischio di precipitazioni sui rilievi del nostro territorio, sul resto delle regioni avremo prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Poi da metà settimana l'anticiclone tornerà a rinforzarsi totalmente sul nostro paese, dunque il clima si farà tipicamente estivo, con temperature che saranno nuovamente in aumento. Per maggiori dettagli vi ricordo come solito la nostra app METEO.IT